Il palazzo va abbattuto e ricostruito perché è pericolante, ma i residenti protestano perché gli alloggi dove verranno trasferiti sono carenti. Due anni per rifare la palazzina fatiscente del quartiere Ater di Punta Penna. Stamattina a Vasto, nel quartiere vicino al porto, lo sgombero degli ultimi cinque appartamenti abitati su 16 complessivi. Giuseppe ed Alessandro, direttore dell'Ater Lanciano Vasto. Gli alloggi sono stati già individuati a far data da maggio 2022. L'Ater ha informato le famiglie nei giorni successivi all'ordinanza di assegnazione. Sono in varie vie della città di Vasto, quindi non ci sono allontanamenti dal comune di origine. Le case sono funzionanti, sono abitabili, sono munite di tutte le necessità ai sensi dei normativi vigenti. In ogni caso l'Ater accompagna ogni necessità in questa fase di transizione. I residenti hanno dovuto lasciare le abitazioni in cui vivevano da decenni con la promessa di poter tornare quando i lavori saranno ultimati. Alcuni di loro sono stati provvisoriamente alloggiati in albergo. Coloro che hanno già preso possesso della casa di destinazione protestano. Però noi ad oggi abbiamo ancora lì degli immobili che non sono a norma, delle finestre, un piano energetico che non è a norma. Per cui andremo lì perché di necessità virtù dobbiamo andare lì, non possiamo stare sotto un ponte. Paola Cianci, assessora comunale alle politiche abitative, risponde alle critiche. Abbiamo fatto dei sopralluoghi in quella sede. Tutti gli aspetti su cui bisogna fare degli interventi di ordinaria manutenzione e che sono ovviamente superabili nell'immediato, nel brevissimo periodo, sono stati evidenziati e l'Ater si è impegnata a porre rimedio a tutto ciò che è stato posto all'attenzione.